La vita di Rossano Brazzi è un racconto affascinante di un grande attore italiano che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. Brazzi è stato un'icona del cinema italiano, noto per il suo fascino, talento e versatilità. Questo video esplorerà la sua carriera straordinaria, la sua vita personale e il suo impatto duraturos all'industria cinematografica. Attraverso una combinazione di talento, determinazione e un'impareggiabile capacità di intrattenere il pubblico, Brazzi si è affermato come una delle stelle più amate del suo tempo. Rossano Brazzi ha fatto i suoi primi passi nel mondo del cinema italiano negli anni 30. Con il suo aspetto affascinante e il suo carisma naturale, ha rapidamente attirato l'attenzione dei registi e del pubblico. Il suo primo grande successo è stato il film Il Signore Desidera, del 1944, in cui ha interpretato il ruolo di un giovane affascinante coinvolto in una serie di avventure romantiche. Questo film ha segnato l'inizio di una carriera di successo per Brazzi, aprendo le porte a opportunità sia nel cinema italiano che in quello internazionale. Da quel momento in poi, Brazzi ha continuato a consolidare la sua reputazione come uno dei talenti più promettenti del cinema italiano. La sua presenza sullo schermo era magnetica, catturando l'attenzione degli spettatori con la sua abilità di portare i personaggi alla vita. Con ogni nuovo ruolo, Brazzi dimostrava la sua versatilità, passando senza sforzo da commedie romantiche a drammatici intensi. La sua abilità di recitazione era innegabile e presto ha attirato l'interesse di registi internazionali. Grazie al suo fascino universale e alla sua padronanza della lingua inglese, Brazzi è stato invitato a recitare in produzioni cinematografiche di Hollywood. La sua presenza sul grande schermo si è stesa oltre i confini italiani, consentendogli di lavorare con alcune delle più grandi star internazionali e di guadagnare riconoscimenti internazionali. Con ogni nuovo ruolo, Brazzi dimostrava la sua maestria nell'arte dell'interpretazione. La sua presenza magnetica e la sua capacità di trasmettere emozioni profonde hanno conquistato il pubblico in tutto il mondo. Brazzi ha dimostrato di essere un attore poliedrico, capace di affrontare una vasta gamma di personaggi e generi cinematografici. Negli anni successivi, Rossano Brazzi ha avuto una scesa straordinaria a livello internazionale. Il suo talento e la sua versatilità hanno catturato l'attenzione dei registi di tutto il mondo, aprendo le porte a nuove opportunità di carriera. Una delle pietre miliari della sua carriera internazionale è stato il film South Pacific del 1958, diretto da Joshua Logan. Brazzi ha interpretato il ruolo del protagonista Emile De Bec, un uomo affascinante e misterioso coinvolto in una storia d'amore durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, tratto dall'omonimo musical di Broadway, è diventato un successo di critica e pubblico, e ha contribuito a consolidare la fama di Brazzi a livello internazionale. La sua abilità nell'interpretare personaggi complessi e coinvolgenti lo ha reso un attore molto richiesto a Hollywood. Brazzi ha recitato accanto a grandi star del cinema, come Audrey Hepburn, Sophia Loren e Catherine Hepburn, dimostrando la sua capacità di reggere il confronto con i migliori talenti dell'industria cinematografica. La sua carriera internazionale è stata caratterizzata da una serie di film di successo, che hanno contribuito a definire il suo status di star del cinema. Brazzi ha dimostrato una notevole versatilità, passando da ruoli romantici a drammi storici e film d'azione. La sua presenza sullo schermo era magnetica, catturando l'attenzione del pubblico con la sua padronanza della recitazione e la sua capacità di emozionare. Oltre ai successi cinematografici, Brazzi ha anche avuto successo sulle scene teatrali internazionali. La sua passione per il teatro lo ha portato ad apparire in produzioni teatrali di grande prestigio, dimostrando la sua abilità nel portare personaggi complessi e coinvolgenti sulla scena. L'ascesa di Rossano Brazzi a livello internazionale ha confermato il suo talento e il suo status di icona del cinema italiano. La sua presenza magnetica e la sua abilità di interpretazione hanno lasciato un'impronta indelebile nell'industria cinematografica, e il suo contributo continua a essere ammirato e celebrato ancora oggi. La morte di Rossano Brazzi è stata un momento triste per il mondo del cinema e per tutti coloro che ammiravano il suo talento e la sua presenza magnetica. Brazzi ci ha lasciati il 24 dicembre 1994, all'età di 78 anni, nella sua casa a Roma. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio tra i suoi colleghi, gli ammiratori e il pubblico in generale. L'eredità di Brazzi nel mondo del cinema è rimasta immutata, con i suoi film che continuano ad essere ammirati e apprezzati da molte generazioni. Nonostante la sua morte, l'impatto di Rossano Brazzi nel cinema italiano e internazionale è ancora evidente. Il suo talento e la sua maestria nell'interpretazione vivono attraverso le sue performance indimenticabili sul grande schermo. Brazzi rimarrà per sempre un'icona del cinema italiano, un attore che ha lasciato un segno indelebile nella storia cinematografica. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita straordinaria di Rossano Brazzi. Il suo contributo al cinema rimarrà per sempre un tesoro prezioso. Continuiamo ad apprezzare e celebrare l'eredità di questo grande artista.